...de sbordicare la rana, macchina antica. Ok. Procediamo con la presentazione di tutti gli utenti e gli attrezzi del museo. L'è la muta. Qual è il latte? La muta del latte. Il mutal, che qua ci mettono giù i bambini piccoli. Quando nascono li mettono giù qua. Cazzo a sgremare, quella di sgremare la panna. Scagno del mulch. Questo qui è il sbalz, quello di sentra la semuda. Brucchette, dove mettono la brucchette qua. Questo qui è il filandello, quello di filare la lana. Filandello. Carghetta. Sopra questo. Andrebbe, questo coso qua, si mette sopra e sotto c'è la conga che è là in fondo. Quella del latte. Questo qui è il musbalz. Questo invece è quello di formaggio. E chi dice che fa seda? La seda. La seda. La seda. Stampino del burro. Questo è uguale a questo, sempre per su. Sempre il brocchetto uguale a quello là. Tutte e due uguali. Questa è quella della lana, che fa parte con la macchina da lì. Una matazza a mano, cosa di filare la lana. Questa qua è il secchio. Ti vede? Questa qui è la macchina di tridare la carne. Questa è la purcella. Eccolo. Le zoccole di una volta. La squela. O no? La marvita. La squela. La marvita in diretto. La marvita. La marvita in diretto. La marvita in diretto. La marvita. La marvita. La marvita. Raso per la foglia. Questa è il tuo museo. È giusto. Scotto. Questo qui lo usano per piccare i castelli. Quando si raccogliono le castagne, ti fanno seccare. Sanno se poi si battono con questo Queste chiediamo Uguali a quelle dentro là Sarebbe la cazzo di sgremare Penaggia Guarda di fare il burro Se sposte Se sposte Questo è un altro E che dice il campaccio Allora In diretto questo qui è il Reset Questo qui è il campaccio La marnetta del Sigel Marnetta Andiamo là Fanno in gioco se non si spiega in Europa Il val Quando gli va andare i castagni La conga Che fa sempre parto con la penaggia lì E il panè Il panè Non lo mangia sui porcei Questa cosa c'è? Per vestiti fiori? Questa qua è sempre per filare la lana Per fare le calze Che dice la ruca Questa è una nuova però Capaget e mutal Mutal cos'è? Sempre una cosa di mettere i bambini Questo è solo un giocattolo però Mutal Fa essere la parte della culla Fa una parte così Questa qui Questa qui